Dopo l'insediamento in Consiglio Comunale, il vice sindaco di Castellabate Luigi Maurano, in una nota sulla pagina Facebook, ha espresso le sue dichiarazioni. Da oggi inizia ufficialmente il nuovo mandato amministrativo, anche se in questi giorni tutta la squadra è stata già operativa e impaziente di dare il proprio contributo alla cura e allo sviluppo del nostro territorio, scrive. Dopo cinque anni di minoranza tra proposte, battaglie e controllo, è arrivato il momento di realizzare quanto condiviso con i cittadini del Comune di Castellabate. La sfida è importante, avvincente, difficile e storica. Per questo ho scelto cinque deleghe specifiche, a mio avviso, nevralgiche, bilancio per poter dare risposte concrete alla necessità di risorse economiche per tutti i settori, per poter risollevare un bilancio deficitario. Ci hanno lasciato una cassa a zero e tante voci con il segno meno e renderlo un motore di sviluppo per poter attuare quella politica di riduzione delle tasse in cui, fermamente, credo, al fine di far rinascere economicamente il nostro territorio. Prosegue Maurano, personale, per rendere agile, performante, giovane e dinamica la macchina amministrativa con la riorganizzazione della pianta organica e con l'assunzione di nuove professionalità. Patrimonio per mantenere, valorizzare e implementare il grande patrimonio del Comune di Castellabate. Dagli immobili comunali alle strade e ai sentieri c'è bisogno di un'azienda specifica e costante. Innovazione per cogliere le tante opportunità che arriveranno grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Attraverso progetti innovativi e lungimiranti. Cultura per divulgare attraverso eventi, spettacoli, manifestazioni, gemellaggi e iniziative l'immensa storia che ci appartiene. Per rafforzare quell'identità forte che ci caratterizza, poi conclude Maurano, ci sono cinque anni avanti. Ci aspettano momenti esaltanti ed altri molto difficili. Bisognerà affrontarli con la stessa maturità. C'è un programma elettorale pubblico, lo rispetteremo senza deleteria frenesia, ma con costanza e determinazione raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e per i quali abbiamo ottenuto la fiducia. Grazie a tutti.